Santa Chiara d'Assisi Nacquea d'Assisi il 16 luglio 1194 attratta dagli ideali di povertà di San Francesco d'accordo con lui fugge di casa tagliati i capelli e deposti gli abiti di seta a 17 anni vestì un abito grigio e fu condotta all'abbazia benedettina di Bastia Con le sorelle Agnese e Beatrice la madre Ortolana e altre due amiche formò una comunità a San Damiano Nel 1243 mise in fuga con un ostia un corpo di Saraceni al servizio di Federico II che tentava l'assalto al convento Morì l'11 agosto 1253 e ai solenni funerali partecipò il Papa Innocenzo IV è patrona della televisione delle lavandaie delle ricamatrici e dei vetrai è invocata contro febbre e malattie degli occhi